e lo vediamo che qui si dispera il suon di musica il signor Solinas ci prova ci prova in composition niente niente ma ora è inutile ma ora il benzina cioè ma dico io la batteria comunque si consuma con la muscaggia smonta la macchina cercando 5 euro tra il motore